Marianne Le Pen, la leader della destra e la figlia del leader storico della destra francese. Ma in Italia invece, oltre che garantire amiche, compagni, amanti e affini, di fatto c'è la politica dell'autoconservazione affinché né il consigliere provinciale né il consigliere regionale possa perdere la poltroncina. E loro diranno, anzi noi diremmo ironicamente, beh sì, lo fanno per non aumentare il tasso di disoccupazione nel nostro paese perché non si preoccupano dell'elevato numero dei disoccupati giovani e meno giovani nel Sud, nella Puglia e nel Salento e in Italia ma si preoccupano di poter non togliere lo scannetto e la poltroncina a questo consigliere provinciale o a quell'altro regionale. Guardiamo in Sardegna, un referendum dice no alle indennità e di notte i consiglieri regionali sardi si ripropongono tutto quello che secondo loro deve ritornare nelle proprie tasche sotto fondi di euro. Ma veniamo alla polemica proprio di questi giorni del Presidente Florido, il Presidente della provincia di Taranto. Per alcuni è strategia perché vuol lasciare a ottobre per potersi candidare al Parlamento italiano nelle elezioni del 2013, per altri invece è una battaglia che il Presidente Florido sta conducendo perché il governo Monti vorrebbe limare le possibilità e le capacità di un ente provincia di governare il territorio di competenza. Potrà esserci una visione che contempli sia un'esigenza quella personale che un'altra quella politica di poter realmente amministrare. Di fatto è che sia il centrodestra che il centrosinistra in questa seconda Repubblica parlarono sempre di eliminazione delle province pian piano e invece sia gli uni che gli altri hanno costituito province in Italia che hanno una popolazione inferiore complessivamente ai cittadini di Lecce e di Brindisi per farvi degli esempi concreti. Ossia hanno istituito invece di toglierle province con 50.000 abitanti. Pensate un poco. Però se da una parte c'è questa riflessione e dall'altra c'è anche una dichiarazione di Rutelli, quello che può sempre non sapere nulla malgrado l'usi e i soldi della Margherita spariti, beh Rutelli dice dovremmo fare una riforma istituzionale ed eliminare le regioni. Sì ora eliminiamo tutto così poi alla fine governa veramente un'oligarchia a Roma. La verità è che nessuno si è seduto per fare una valutazione politico-organizzativa ed istituzionale per apportare una novità nel nostro paese malgrado gli sprechi che comunque vengono tutelati. Non so se abbia ragione o meno il movimento della Regione Salento quando un po' di mesi fa proposte l'eliminazione delle province e la introduzione di nuove regioni, ossia aggiungere a 30 regioni in Italia che però a ben pensare ha una validità riformista perché a differenza delle regioni le province non possono legiferare. Allora a questo punto se bisogna eliminare qualche ente non utile, non voglio dire inutile, è sempre bene conservare coloro che hanno una possibilità di sburocratizzare quello che è il nostro paese, ossia una regione nuova che possa come dire anche legiferare, ben governare e distribuire le risorse economiche di un territorio non esageratamente grande ma certamente contemplativo come può essere per il nostro di almeno 3-4 province e quindi eliminare sprechi inutili. Dall'altra invece c'è la visione di dire che le province sono opportune, il governo Monti sta chiedendo per esempio di eliminare quelle che hanno una popolazione inferiore ai 300 mila abitanti e quindi come dire eliminare parzialmente degli sprechi. La verità è che alcuno ha fatto un programma vero perché tutti quanti vogliono solamente autotutelarsi per cui in questo paese non si farà nulla e nessun parlamentare di zona assumerà un'iniziativa, sposerà una proposta per portarla a Roma e magari discuterla, magari emendarla, magari modificarla perché hanno paura di ledere ai propri amici e figliocci che sono oggi consiglieri provinciali o assessori sempre di questo o di quell'altro, ente utile o inutile che sia. E così come quel dibattito pietoso sul numero dei consiglieri regionali in Puglia, fui tacciato di demagogia e di antipolitica da un ex consigliere regionale quando dissi ma perché avete ridotto i consiglieri regionali da 70 a 60, non potevate ridurli a 50 e mi fu detto che questo era il mio spirito legato all'antipolitica e dissi no perché se fosse così, quindi se secondo lei affermai in quella sede non è democratico avere un consiglio regionale di 50 consiglieri, lei mi deve allora serenamente affermare che sino a 5 anni fa il consiglio regionale di Puglia non era un organismo democratico perché aveva 50 consiglieri, poi aumentati a 70 e ridurne di 20 significa economizzare 10 mila Euro al mese per 20 consiglieri per 5 anni. Mica poco il problema che a loro poi si riducono le possibilità di rielezione perché meno numero può accedere, minor poltrone si possono trovare. Ecco perché nel nostro paese regna l'autoconservazione per rendere omaggio all'oro deretano e non alle nostre tasche. A domani! A domani!